Sir Questore è un'importante operazione sul Sorano che viene da lontano? Sì, questa è la conferma che il duro lavoro paga. Dopo l'operazione Ultima Corsa del settembre 2022, dove sono state eseguite numerosissime misure cautelari nei confronti di appartenenti all'etnia Rom in località Sora, noi abbiamo proceduto con la notifica di 10 provvedimenti di misure di prevenzione sia reali che personali nei confronti dei medesimi soggetti. Quindi non solo l'esecuzione di attività operative che hanno portato alla consegna in carcere di alcuni di loro, ma si è proceduto ulteriormente con attività di misure di prevenzione. Ad esempio la sorveglianza speciale è erogata proprio a 10 di loro e inoltre la confisca di numerosissimo materiale e immobili per un valore totale di circa 1.500.000 euro compreso gioielli, autoveicoli e immobili in loro possesso, provento di attività delittuose nell'ambito dello stupefacente e dell'usura. Un forte messaggio di legalità verso i cittadini sorani? Non solo verso i cittadini sorani, nell'ambito di tutta la provincia, perché togliere l'alimentazione alla delinquenza, togliere gli alimenti alla delinquenza, quindi il denaro, limitando anche il movimento di questi soggetti è la carta vincente che noi utilizziamo.